Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qua con Mr. Mio Gatto Blechi E volevo dirvi che in queste due settimane io partirò Per il trentino quindi non ci sarà un nuovo video, mi dispiace E ci sono andato questo breve video per informazione E poi quando queste due barra tre settimane che saranno fu un via Dopo torneranno i video logicamente Ciao